Meningiti. Meningite batterica. È una emergenza. Il sospetto nasce con paziente con febbre, rigidità nucale, sintomi e segni neurologici focali diffusi. Quindi neurologia, rigidità nucale, febbre. Qual è la vera rigidità nucale? Paziente disteso, ginocchia piegate, gli togli il cuscino e gli dici di rilassarsi. Si prende la testa con entrambe le mani e si cerca di flettergli il capo sul torace. Se non avviene allora quella è rigidità nucale. Laddove c'è sospetto di meningite si deve cominciare a fare la terapia. Poi confermiamo, però prima terapia, la diagnosi come si fa? Innanzitutto le emocolture e poi la rachicentesi. Quindi il paziente messo di fianco o disteso, si traccia una linea tra le due spine iliache superiori, si prende lo spazio interrachidio, si entra con un ago sottile lentamente fino a che non viene fuori il liquor. Si possono togliere fino a 3cl. Poi si fa il dosaggio delle proteine che saranno aumentate per la flogosi, polimorfonucleati che saranno aumentati, glucosio che sarà ridotto perché i batteri nel liquor lo consumano e colorazione di gram. Quindi proteine nel liquor, conta cellulare, gram e glicemia. Altri esami sono colorazione di Ziel Nielsen per i tubercolari, test per la lue, cioè per la sifilide, gli antigeni per il criptococco, vabbè, PCR per l'enterovirus e anticorpi anti-arbovirus. A noi ci interessa sospettare sempre la tubercolosi, quindi Ziel Nielsen, la sifilide, poi il resto l'enterococco, l'arbovirus e il criptococco meno. Tac cerebrale non è necessaria se il paziente non ha anomalie neurologiche molto diffuse. La terapia qual è? Allora il paziente va sempre ricoverato, non può essere gestito a domicilio. Quindi inizialmente la terapia empirica di attacco è con ceftriaxone, vancomicina e ampicillina. Quindi terapia d'attacco, ceftriaxone, vancomicina, ampicillina. Nel caso in cui sospettiamo streptococco, pneumonie come causa, allora qui facciamo desametasone in aggiunta, poi penicillina G. Se il paziente è allergico alla penicillina la sostituiamo con la rifampicina e la vanco. Se invece è resistente anche alla vanco e alla rifampicina si prova l'abbinamento vancomicina ceftriaxone. Quindi streptococcus pneumonie, allora ad attacco si fa ceftriaxone, vancomicina e ampicillina. Poi se è pneumonie si fa desametasone più penicillina G. Se è allergico, vanco e rifampicina. Se non funziona vanco e ceftriaxone. Dopodiché se abbiamo la nisteria meningitidis facciamo il ceftriaxone e la rifampicina. Quindi si fa sempre questo, semplicemente ceftriaxone e rifampicina. Se abbiamo la listeria monocitogene, soprattutto nei pazienti anziani e immunocompromessi, qui si può fare l'ampicillina, la minoglicoside. Poi altre terapie possono essere ceftozidime, la oxacillina, meticillina. La meningite può anche essere asettica. Quindi qui abbiamo febbre, cefalea, segni di meningismo, però più ridotto. Fotofobia, preceduto da faringite o magari sintomi respiratori. Quindi febbre, cefalea, moderato meningismo. Fotofobia, tutto preceduto da sintomi respiratori, ci fa pensare che la causa sia un virus. Oppure farmaci, come per esempio l'infusione di G. Endovena. Questa può dare una meningita asettica. Comunque abbiamo tra gli farmaci i FANS e il Bactrim possono dare una meningita asettica. Quindi G. Endovena, FANS, Bactrim. La diagnosi viene fatta con rachicentesi. Quindi nel liquor noi non troviamo praticamente niente. Al massimo linfociti e neutrofili azzerati. Gli esami molecolari sul liquor possono essere o non essere positivi. Se saranno negativi se è una meningite da farmaci, positivi se invece è virale. La terapia viene fatta come terapia di supporto. Quindi sempre e comunque liquidi, nutrizione, riposo in ambiente tranquillo. Ma soprattutto cortisone endovenoso. Quindi dose non troppo alta perché diminuisce le difese, quindi antinfiammatorio. E comunque se abbiamo una meningita erpetica si dà all'aciclovir. Quindi liquidi, riposo, cortisone e aciclovir.